Attenzione, Tonali segue a Cerbi, gol di Dzeko, gol di Dzeko, palla che supera Mignan sul calcio d'angolo. Barella, Di Marco riesce a superare l'appostazione di Tonali, ancora, 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 gol, 2-0, Mkhitaryan. 1-2, tremendo, a favore dell'Inter, palla lunga di Barella, chiude Calabria su Di Marco, l'arbitro stoppa Tonali, ancora, Barella, il tiro di Cialanoglu, il palo, palo di Cialanoglu, ancora Dzeko di testa, Barella, Mkhitaryan para e mette alto Barella, carica tutti Mignan. Non ha il coraggio di darla, evidentemente non l'aveva vista bene Brahim, Brahim, Brahim per Messias, Messias va al cross, Calabria colpo di tacco esterno della rete. Esterno della rete, una reazione, un tentativo, il Milan che ci prova. Giroud, Giroud, Giroud a terra di Marco, Brahim Diaz, Brahim Diaz, c'è il Marco, Brahim Diaz, il tiro fuori. Ci ha provato Brahim. Calabria la tocca di punta, poi Tonali, Tonali, Tonali va in, bella palla di Tonali per Junior, Junior sono davanti, Aonana fuori. Attenzione Bastoni che ha trovato il Marco, Bastoni ragazzi, libero in area Dzeko, la parata di Mignan in angolo. Loro appena accelerano un attimo, sono sempre pericolosi. Divock difende bene la palla, Divock dentro l'area, bella per Brahim, Brahim Giroud, Giroud, Sandro Tonali, il tiro, palo, palo.